La VL si incaglia in Laguna prima della partenza per le finale di Torino. A Venezia la Carpegna Prosciutto-Pesaro perde 93-77 contro una Reiers magnosa di rivalsa dopo la rivoluzione in panchina. Premesse che si riversano su una Venezia che azzanna il match al cospetto di una VL imballata fra l'assenza all'asmino di Moretti per influenza e per uno scontro di gioco che manda subito fuori fase Gudmundson. Il risultato è un netto 28-7 al primo quarto. VL che si sforza di rientrare in partita ma il passivo viene appena arrosicchiato sul 48-37 all'intervallo. A rientro sul parquet stesso copione della palla 2 col terzo quarto che si chiude con un 77-60 che di fatto manterrà distacchi invariati fino a fine gara. Sconfitta da metabolizzare in fretta perché mercoledì a Torino c'è la sfida con Varese per i quarti di finale di Coppa Italia. Mercoledì sarà anche la serata in cui la VIS recupererà il match interno col Ponte d'Era saltato per allagamento del Benelli. Ci arriverà una VIS sospinta dal sesto risultato utile consecutivo dopo che i ragazzi di Brevi hanno rimediato uno 0-0 nell'essentito derby interno con Rimini. Partita di poca creatività ma di grande attenzione per la VIS che chiude con un buon punto dopo la scoppola di 5-0 dell'andata. Male invece il Fano che cade 2-0 in casa del Roma City con i due gol nel finale dopo 70 minuti di equilibrio. Nel calcio a 5 vittoria rigenerante per la classifica dell'Ital Service che nel venerdì del Palafiera ha ragione 7-5 della fortitudo Pomezia che non perdeva da 5 turni. 12 gol con Dalcina ad aprire le danze, Pomezia che pareggia con Jorge Santos ma Pesaro che alluga con De Oliveira e Schioquette nel cuore del primo tempo prima che Jonas fissi il 3-2 all'intervallo. Nella ripresa lo stesso Jonas fa 3-3 poi ancora De Oliveira ed è 4-3 momento della partita poi viziato da una contestata espulsione di Tony Dandel e con l'Ital Service in 4 Pomezia pareggia ma Pesaro reagisce di prepotenza con De Oliveira sul rigore che firma il tris personale poi i bis di Dalcina e Schioquette per un 7-4 parzialmente intaccato da Jorge Santos che fissa il 7-5 finale che spedisce l'Ital Service con fiducia ai quarti di finale di Coppa Italia. Martedì 14 febbraio alle 20.30 gara secca a Padova col Petrarca. In palio il pass per le Final Four del 25 e 26 marzo a Napoli. Nel rugby partita mal gestita dalla Fiorini Pesaro Rugby che a Roma chiude il primo tempo avanti e poi cade al cospetto della primavera rugby 26-19. Un match che dà comunque un punto alla classifica dei Kiwi. Torna invece a mani vuote da Busto Arsizio la Megabox Vallefoglia che in terra Lombarda cade in 3 set. La squadra di Mafrici prova a tenere nei primi due persi 25-18 e 27-25 ma crolla nel terzo con un secco 25-11.